Ancora un suicidio sull'isola di Ischia. Una donna, Raffaella Di Meglio, di 74 anni, si è tolta la vita nelle acque di Forio. Le tracce si erano perse già nel pomeriggio di sabato, quando familiari ed amici hanno avviato le ricerche e lanciato l'allarme. Sin da subito si è temuto il peggio, viste anche le condizioni fisiche di Raffaella. Era stata vista per l'ultima volta sulla fermata dell'autobus del porto di Casamicciola. Le ricerche sono continuate per tutta la notte e per le prime ore di domenica mattina. Dopo poco però è arrivata la terribile scoperta. Sulla spiaggia di San Francesco, a Forio, il bagnino dell'emitrofo Hotel Tritone ha avvistato il corpo di una persona che galleggiava in acqua. Inutile l'immediato soccorso. Non appena trasportato il corpo sulla spiaggia ci si è accorti che oramai non c'era più nulla da fare. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine e la ricostruzione dell'accaduto non è stata complicata. Anche perché a dare ulteriori certezze sul suicidio da parte della donna è stato il ritrovamento di un cappottino sulla spiaggia della Chiaia. Proprio lì la donna ha deciso di togliersi la vita annegando tra le forti onde del mare Foriano. Le correnti poi hanno fatto il resto trasportando il corpo sulla vicina spiaggia di San Francesco. Al momento la salma è stata trasportata a Napoli per l'autopsia che darà ulteriori dettagli ed elementi agli investigatori per una più precisa ricostruzione dei fatti. Resta l'impossibilità di spiegare le motivazioni di un gesto così disperato e tragico e resta soprattutto il dolore della famiglia e dei tanti conoscenti. E allora è quanto mai doveroso lasciare spazio al silenzio e chi ha fede alla preghiera, consci che probabilmente oggi più che mai Ischia non è affatto un'isola felice.